Arriva quasi al 30% il tasso di positività in Campania. Dobbiamo tenere gli occhi aperti. L'aumento è assolutamente preoccupante. Questo è il commento del governatore De Luca che aggiunge è vero che non abbiamo gravità o patologie particolari ma è vero anche che se i numeri sono questi oggi dobbiamo aspettarci una nuova ondata. Sale la preoccupazione nell'intera regione Campania a causa dell'aumento dei casi covid, contagi in crescita ovunque. L'unica nota positiva al momento è la stabilità dei ricoveri in terapia intensiva. Il presidente della regione predica prudenza e aggiunge in pratica abbiamo avuto rompete le righe in Italia e in Europa non ne parliamo. Avremo il rimescolamento sociale quest'estate è evidente che a settembre ma probabilmente noi già a fine luglio ci dicono i nostri epidemiologi rischiamo di avere una nuova ondata preoccupante. Sappiamo che non possiamo chiuderci in casa, la gente è stressata, dobbiamo tornare alla vita però dobbiamo essere estremamente prudenti altrimenti avremo problemi davvero seri. Questa settimana intanto si nota una tendenza all'aumento dei casi covid in tutta Italia data l'elevata velocità di circolazione virale. È bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione utilizzando mascherine soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone e allo stesso tempo proteggere le persone più fragili anziani con un'ulteriore dose di vaccino. Lo ha detto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza ma intanto in questo momento nessuno vuol sentir parlare di mascherine o vaccini.